La vista di Zingaretti in Calabria è destinata a lasciare il segno, ma in generale sono le elezioni regionali che stanno creando grossi problemi e genereranno degli strascichi che vanno ben oltre la competizione per il rinnovo del Consiglio regionale. Zingaretti ha infatti ribalito che il candidato del Partito Democratico è Pippo Caldipo e dopo aver rifiutato l'invito all'unità da parte di Oliverio, ha anche commissariato le federazioni provinciali di Crotone e Cosenza che si erano schierate a fianco del governatore in carica. E a proposito di quest'ultimo, sarebbero diverse le voci che vorrebbero diversi consiglieri, finora vicini a Oliverio, al momento non più disponibili a sostenere la ricandidatura dell'attuale Presidente della Regione Calabria. In casa Movimento 5 Stelle, Francesco Aiello ha detto no a qualsiasi tipo di accordo con il PD e con i partiti in generale, mentre Dalila Nesci, che aveva palesato l'intenzione di candidarsi a governatore, ha criticato a speramento le scelte del partito. Ma anche in casa centrodestra le polemiche fioccano. Il no alla candidatura di Mario Chiuto da parte dei vertici di Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia ha suscitato nuove polemiche e il primo cittadino di Cosenza e il fratello Roberto minacciano spaccature. Il nome di Iole Santelli come possibile candidata è inasprita ancora di più gli animi e Mario Chiuto è andato giù in maniera abbastanza dura con un post su Facebook. Nei prossimi giorni il centrodestra rivelerà il nome del candidato, ma non sono esclusi colpi di scena.